Siamo arrivati da quando? Una mezz'oretta già? Ancora non hai fatto un video a Mauro? Ma veramente abbiamo un arrivo a Modena con il working Mauro? Aspè, ma da qua, direttamente da Montale ancora no, questa è una breaking news. Mauro si sta nascondendo, si intravede la spalla sinistra del Mauro. Viene verso destra. Non possiamo arrivare. Le prime impressioni di questo percorso? Questo parco è incredibile, è immerso nella natura, anzi sicuramente il dottor Mauro ha avuto le impressioni più folgoranti delle mie, ora le chiediamo che cosa ci dice di questo parco. Il parco è un parco archeologico aperto, open air, serve anche dai visitatori che vengono immersi all'interno di quello che poteva essere, perché è un villaggio dell'età del bronzo, la struttura è fantastica, il servizio ha anche un'esperienza coinvolgente che deve essere fatta a tutti quanti i visitatori. Bene ragazzi, allora buon lavoro e è nulla. E grazie. Mi fai male, ma che cazzo fa? Trivelli, che cazzo fa? Trivelli caro, ragazzi, tu voglio che non voglio, non fare domande. Ma che succede? Trivatti i cazzi i tuoi, resta ignorante Trivelli fidati, resta ignorante Trivelli. Io mi fido. Non ti vuoi scelta, scelta, ti vuoi. Grazie. Dopo questa chiudiamo tutto. Tutta di tronco. Non ti vuoi scelta, non ti vuoi scelta, non ti vuoi scelta.